Il primo maggio Parole di elogio per i lavoratori del cantiere e massima fiducia nell'effetto che Expo avrà sulla ripresa italiana. Ce la facciamo, come al solito in extremis, ma ce la facciamo, ha detto Renzi. Poi un siparietto con Maroni sui tagli alle regioni. Un convegno per ribadire il concetto, per tenere alta l'attenzione sul fenomeno della corruzione che stritola l'economia e droga il mercato degli appalti. La Comcommercio ha scelto questa strada per chiedere alla politica e alla magistratura di intervenire per evitare il dilagare della malavita nel settore. La fiera sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili fa la cosa giusta, ha aperto oggi nei padiglioni di Fiera Milano City. Sono 700 gli espositori, mentre gli organizzatori sperano di battere il record di 70.000 visitatori fatto registrare l'anno scorso. Sette anni senza Chiara Lubic, senza la fondatrice del Movimento dei Focolari. Il Cardinale Scola ha celebrato la messa nella Basilica di Sant'Ambrogio e ha chiesto agli aderenti al Movimento di essere fonte di unità per la Chiesa. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN. Oggi giornata milanese per Matteo Renzi che ha effettuato un nuovo sopralluogo al cantiere del sito espositivo a meno di 50 giorni dall'inaugurazione di Expo 2015 Milano. Vediamo il resoconto di questa mattinata del Premier nel servizio di Massimo Scarinzi. Ce la faremo come sempre nel nostro DNA, anche magari facendo un po' le corse alla fine. Vorrei ringraziare le aziende che con tutte le difficoltà, con tutti i problemi che conosciamo, stanno mettendo veramente di tutto per poter fare l'ultimo miglio. Però voi rappresentate con questo cantiere molto di più del cantiere dell'Expo. Giornata lombarda per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che questa mattina ha fatto visita al sito di Expo 2015, a poco più di un mese e mezzo dall'inizio della manifestazione. La mattinata del Premier era iniziata con la visita agli stabilimenti di Augusta Westland, avergiate in provincia di Varese all'azienda Meccanica Carnaghi di Villa Cortese, accompagnato dall'ex amministratore delegato di Luxottica Andrea Guerra. Renzi è arrivato a Ropero alle 11 insieme al Ministro Maurizio Martina. Il Premier si è detto ottimista rispetto al cronoprogramma dei lavori a 49 giorni dal taglio del nastro. Ci dicevano tutti, non ce la farete, non ce la farete, lascia stare, mollala. Abbiamo visto che invece l'Expo ci sarà, sarà un grande successo, ci consentirà di presentare l'Italia al mondo. Questa è un buona pace di tutti i gufi e quelli che sperano che l'Italia non ce la faccia. L'Italia ce la farà. E vi assicuro che i passi in avanti sono stati estremamente rilevanti, come si può vedere dappertutto. Conosco anche le realtà di altri paesi che hanno avuto l'esposizione universale negli anni passati e direi che siamo a un ottimo punto. Vorrei un primo maggio assolutamente pieno e l'auspicio del commissario unico per Expo Giuseppe Sala riguardo alla giornata d'inaugurazione dell'esposizione universale milanese. Per i primi giorni di manifestazione ha proseguito Sala al termine della visita del Premier. Al sito dovremmo compendiare la necessità di testare il sistema a mobilità con la voglia di avere tante persone. Soddisfatto anche il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. La vicenda Expo è una nostra piccola soddisfazione, sarà aperto con qualche problema ma alla fine lo stellone italiano ce l'ha fatta mettendo in sicurezza gli appalti come certificato dall'Ocse. L'impressione, ha proseguito Cantone, è che i lavori siano significativamente aumentati. Si può avere ottimismo ma la sorveglianza non deve mai abbassarsi. E al termine dell'intervento Matteo Renzi dal palco è sceso e ha parlato con Roberto Maroni. Maroni si è lamentato dei tagli alle regioni. Renzi ha replicato con il sorriso, con una battuta. Grazie alle immagini di Repubblica TV, del sito di Repubblica, possiamo mostrarvi questo siparietto. Tra Renzi e Maroni non c'è solo la questione dei tagli alle regioni, c'è anche da ieri sera quella relativa alla legge anti-moschè, così soprannominata la legge regionale sui nuovi luoghi di culto, impugnata proprio ieri dal governo. Perché violerebbe diversi articoli della Costituzione, tra cui due principi fondamentali. Quello dell'uguaglianza dei cittadini, articolo 3, e quello delle confessioni religiose, articolo 8. È quanto si apprende dal comunicato stampa sulla riunione del Consiglio dei Ministri di ieri. Oggi è il giorno delle reazioni, dopo quelle positive da parte della maggioranza ci sono quelle ovviamente negative da parte dell'opposizione al governo e maggioranza. Invece qui in regione Lombardia con l'assessore Beccalossi che invita Renzi, approfittando della sua visita ai cantieri di Expo, ad annunciare la costruzione di una grande moschea sul sito che ospiterà l'evento. Lo ironizza, insomma. Il governo nazionale ha perso l'occasione di intercettare l'appello dei sindaci e dei territori che chiedono di colmare l'attuale vuoto normativo. Invece ha fermato in una nota il coordinatore Lombardo del nuovo centrodestra Alessandro Colucci. Il centro-sinistra antepone le richieste degli imami e dei musulmani a quelle dei cittadini che chiedono sicurezza. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, Riccardo Decorato, che ha poi garantito che l'avvocatura regionale sosterrà davanti alla consulta le ragioni di questa norma. Ha parlato anche il governatore Maroni dicendo Mi sono convinto che da parte di Matteo Renzi non c'è un atteggiamento persecutorio nei confronti di Regione Lombardia. Da parte del governo invece sì, dando la colpa più che altro all'assenza del ministro dei rapporti con le regioni. E quindi alla fine sono i burocrati a gestire queste cose. Quindi nessuna colpa a Renzi in maniera diretta, ma indirettamente sì. C'era anche il procuratore capo di Milano Edmondo Brutti Liberati questa mattina al convegno organizzato da Confcommercio su corruzione e criminalità organizzata negli appalti pubblici. Il mondo delle imprese denuncia la presenza della malavita che turba la concorrenza. Criminalità organizzata e appalti pubblici, spesso due facce della stessa medaglia. Come dimostrato dalle recenti inchieste che hanno scombussolato Expo, le infiltrazioni delle cosche preoccupano il mondo delle imprese. Il tema è stato trattato questa mattina nel corso di un convegno a cui ha partecipato anche il procuratore capo di Milano Edmondo Brutti Liberati che ha sottolineato come grazie alla tempestività e alla collaborazione tra le istituzioni ai vari livelli, nonostante le inchieste della magistratura, i lavori per Expo 2015 hanno potuto procedere senza eccessivi intoppi. La magistratura penale interviene quando i fatti sono già avvenuti e quindi nel momento della repressione, ma il momento della prevenzione e soprattutto il momento della consapevolezza dei danni che le pratiche corruttive portano all'economia e alle stesse imprese e alla distorsione della concorrenza. Si favoriscono le imprese scorrette rispetto alle imprese sane, con un danno per tutti e con un danno finale anche per i lavoratori. Non è solo la presenza negli appalti delle cosche a preoccupare il mondo delle imprese, c'è poi tutto il capitolo legato alle minacce e ai danni. È quello che devono subire circa il 10% degli imprenditori milanesi, secondo un'indagine promossa da Confcommercio rilanciata questa mattina nel corso del convegno sulle infiltrazioni della malavita organizzata. Tre imprenditori su dieci affermano di aver ricevuto richieste di denaro, pressioni per assunzioni o addirittura tentativi di imporre fornitori. I fenomeni di illegalità toccano il consumatore e toccano le imprese. Toccano il consumatore perché anche per effetto dei momenti di crisi è sempre più sensibile su quelli che sono gli aspetti di convenienza nell'acquisto di prodotti rubati, contraffatti o di illecita provenienza. Qual è la situazione a Milano secondo i dati che avete anche come procura negli ultimi anni? Il trend come sta andando? È difficile dare dei dati sulla corruzione perché come è noto non tutte le pratiche corruttive è possibile scoprire, scoprirle in tempi utili. Di certo sono state scoperte delle pratiche corruttive che si sono innestate nell'ambito di indagini antimafia sulla penetrazione dell'andrangheta nel territorio milanese. Sono state scoperte alcune pratiche corruttive proprio a partire da quelle indagini che hanno investito anche la più importante oggi delle opere pubbliche in corso a Milano Expo. Per fortuna, grazie alla tempestività dell'intervento della magistratura, abbiamo privilegiato la celerità delle indagini. Oltre 2 milioni di euro sarebbero stati versati da Silvio Berlusconi alle ragazze ospiti delle serate ad Arcore nel periodo compreso tra il 2010 e i primi mesi del 2014. Quanto si evince dagli atti della Procura di Milano relativi all'inchiesta Rubiter depositati al Tribunale del Riesame. Non sono documentate fonti di reddito delle indagate che non siano riconducibili in modo diretto e indiretto a Silvio Berlusconi e quanto sostengono i PM a proposito degli accertamenti bancari disposti sui conti correnti di una ventina di ragazze. Tra le beneficiari del denaro non c'è però Rubi. C'è anche la lettera di congedo scritta da Berlusconi nel dicembre del 2013 alle ragazze tra gli atti depositati. Nella missiva l'ex premier scrive in sostanza di non poter più aiutare le giovani in quanto questo suo gesto di generosità è stato interpretato in termini negativi e porterebbe guai a tutti. Però annuncia di lasciare ad alcune di loro, in tutto 14 ragazze, una sorta di buona uscita da 25.000 euro. Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita nel proprio appartamento in via Gonin 28 nella zona di Inganni, nella periferia sud-ovest di Milano. Il cadavere, riverso a terra in una pozza di sangue, è stato scoperto dal padre questa mattina e ha sul corpo tre ferite da taglio. Lo confermano gli investigatori che continuano gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Sul posto anche ovviamente il medico legale, qui vedete le immagini del caso, si sta occupando anche la squadra mobile che al momento non può escludere alcune ipotesi ma si va verso l'ipotesi dell'omicidio ovviamente. A chiamare la polizia è stato il 118 su richiesta del padre della vittima che non sentiva il figlio dal giorno prima. Arresto in diretta a Milano, continuiamo con la cronaca, per due albanesi trovati in possesso di 5 kg di cocaina, presumibilmente proveniente dal nord Europa. L'operazione è stata portata a termine dagli agenti della squadra mobile. I due finiti in manette, fermati in via Primaticcio, sono un 31enne incensurato, privo però di permesso di soggiorno, e un 29enne con permesso in scadenza ai piccoli precedenti. Le indagini sono partite dopo che in via Primaticcio era stato preso in locazione quel box che vedete nelle immagini della polizia di Stato. Gli agenti hanno iniziato un'attività di osservazione e il 9 marzo, lunedì scorso, hanno arrestato i due, come vedete. Verso l'ora di pranzo hanno notato una BMW entrare nel box da cui poi è uscito solo uno degli uomini. Sottoposto a controllo, l'albanese aveva con sé due panetti di cocaina, altri due sono stati trovati, nascosti in un vano ricavato sopra lo pneumatico dell'auto, parcheggiata nel garage. Rimane in carcere Massimo Bossetti, il muratore arrestato nel giugno scorso per l'omicidio di Yara Gambirasio. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Brescia, respingendo l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. Il legale di Bossetti, Claudio Salvagni, aveva chiesto la scarcerazione del muratore sulla scorta di presunte discrepanze tra l'esito degli accertamenti sul DNA mitocondriale, che non riconduceva all'indagato, e l'esito delle analisi sul DNA molecolare, che invece, secondo le consulenze della Procura, è certamente di Bossetti. Con la decisione di quest'oggi dei giudici di Brescia, è la quinta volta che Bossetti si vede negare la scarcerazione, due volte dal GIP di Bergamo, altrettante dal riesame di Brescia e in un'occasione anche dalla Corte di Cassazione. Ha abusato sessualmente della figlia 14enne per due anni. Per questo, un 45enne di Vemercate, un operaio rumeno incensurato, è stato arrestato stamane dai carabinieri. Ad aiutare la 14enne a raccontare quanto stava accadendo, sono state due donne conoscenti di famiglia. Sono state loro a notare che qualcosa non andava. Così, durante alcuni pomeriggi, passati insieme a chiacchierare, sono riuscite a far sì che rivelasse il suo segreto. La ragazzina aveva paura, provava vergogna e soprattutto temeva la reazione del padre, ma anche quella della madre. Madre che però invece l'è stata da subito vicina, che l'ha accompagnata a sporgere regolare denuncia. Ascoltata poi in audizione protetta, la ragazzina ha trovato finalmente il coraggio di raccontare anche al magistrato quello che le stava accadendo. Lo stato di notevole denutrizione in cui si trovava la bimba di nove mesi, Aurora, morta in casa Milano nella notte tra il 26 e il 27 febbraio scorso, potrebbe essere stato tra le cause del decesso, combinato con altri fattori come la febbre o eventuali patologie. È quanto emerge dagli esiti dell'autopsia eseguita dal medico legale sul cadavere della bambina. Da quanto si è saputo, la piccola era sottopeso e praticamente priva dello strato adiposo comune nei bambini di pochi mesi. Secondo i periti, inoltre, la bimba potrebbe essere rimasta a lungo nella stessa posizione, forse a causa di una debolezza tale che le impediva i movimenti. È stata riscontrata infatti la presenza di una piaga da decubito sulla schiena. Dall'autopsia sono emersi segni, non sono, scusate, non sono emersi segni evidenti di violenza. Il PM Christian Barilli ha disposto ulteriori accertamenti per risalire alle cause del decesso, esami che richiederanno altri 40 giorni. Nell'ambito dell'inchiesta, nei giorni scorsi, sono stati iscritti nel registro degli indagati i genitori della bimba. L'ipotesi di reato è quella di maltrattamenti in famiglia aggravati. Venerdì di paura, in un'azienda di Cavenago Brianza, secondo quanto segnalato dal sito dell'azienda regionale Emergenza Urgenza, alle 12.43, dopo una telefonata alla centrale operativa, sono stati preallertati in codice giallo due ambulanze e un elisoccorso per un incidente sul lavoro. L'elicottero in arrivo da Milano è intervenuto e ha prelevato un ferito in codice giallo. Teatro dell'incidente, che ha coinvolto un operaio 22enne, è stata un'azienda in via Miles, sembra appartenente al ramo dei trasporti. La vittima dell'incidente è rimasta schiacciata da un camion. Non si sa se era alla guida del mezzo oppure no. Ha aperto i battenti questa mattina, finita la cronaca a Fiera Milano City, fa la cosa giusta, la manifestazione sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili. 700 gli espositori arrivati a Milano da tutto il mondo. Si cerca di battere il record di 70.000 visitatori, fatto segnare l'anno scorso. Appuntamento a Milano fino a domenica 15 marzo per fa la cosa giusta in scena, nei padiglioni di Fiera Milano City, la manifestazione sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili, che ha tagliato quest'anno il traguardo della dodicesima edizione. Stand, laboratori, spazi verdi, ristoranti, spettacoli e conferenze per tutti i target, con un occhio di riguardo per i bambini. Almeno 70.000 visitatori attesi nel corso della tre giorni, 700 gli espositori nei 29.000 metri quadri di idee, servizi e prodotti per migliorare la qualità della vita, rendendo la più giusta, ecocompatibile e anche economica. La manifestazione è articolata in 13 sezioni tematiche a cui si aggiungono 8 spazi speciali, tra cui quello dedicato al focus sulla ricerca della pace, a cent'anni esatti dall'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Ad aprire, la tre giorni, un convegno sul gioco d'azzardo con il confronto tra amministratori locali che puntano a circoscrivere il fenomeno delle aperture di nuove sale scommesse, medici che si occupano delle patologie legate alle slot machine e al terzo settore. Attenzione, chiudere e limitare gli investimenti di questo disastro che è stato fatto quando si è data la liberalizzazione delle slot machine che stanno invadendo e adesso con l'aggravio anche dell'online, delle grandi preoccupazioni. Quindi attorno a questa è una battaglia culturale, politica, forte, che dobbiamo intraprendere tutti insieme. L'auspicio è che si arrivi al più presto a una nuova legge nazionale che limiti fortemente le nuove aperture di sale giochi sul territorio garantendo ai sindaci strumenti più adeguati per combattere il fenomeno dilagante del gioco d'azzardo. Serve una legge nazionale che dia gli elementi ai sindaci per poter limitare, controllare e soprattutto rendere il meno contagioso possibile il gioco d'azzardo. Non si faccia un passo indietro rispetto alle conquiste che abbiamo fatto soprattutto qua a Milano. Noi a Milano abbiamo combattuto la diffusione del gioco d'azzardo mettendo nel regolamento edilizio una distanza minima dai due sensibili che è di 500 metri regolando gli orari di apertura delle slot machine nei bar, nei tabaccai e nelle sale scommesse. E restiamo a Milano perché finalmente potranno cominciare e fervono i preparativi i lavori per la riqualificazione della casa di Alessandro Manzoni. Intesa San Paolo e la Fondazione Centro Nazionale Studi Manzoniani hanno siglato la convenzione che consente l'avvio dei lavori per il restauro conservativo. La speranza è che i lavori possano terminare entro luglio così da offrire alla cittadinanza e soprattutto ai visitatori che affolleranno Milano per Expo la vista di questo bel palazzo restaurato. I lavori di casa Manzoni, ha commentato il sindaco Giuliano Pisapia, faranno tornare al suo splendore il luogo straordinario in cui Manzoni ha vissuto e ha scritto le sue opere. Così a 230 anni dalla nascita di Manzoni, la storica dimora dove l'autore dei Promessi Sposi visse dal 1813 fino alla morte avvenuta nel 1873, sta per rinascere. Messa all'asta dopo la sua scomparsa nel 1874, la casa venne acquistata dal conte Bernardo Arnaboldi. Dopo varie vicende divenne proprietà della Cariplo che a sua volta ne fece dono al comune con il vincolo dell'uso perpetuo ed esclusivo al centro di studi manzoniani. Il cardinale Scola nella Basilica di Sant'Ambrogio ha presieduto la celebrazione uncaristica per il movimento dei focolari nel settimo anniversario della scomparsa della fondatrice Chiara Lubic. Agli aderenti ha chiesto di essere fonte di unità nella Chiesa. Anna Maria Braccini. Il nostro impegno di oggi è raccogliere con rinnovata consapevolezza il sogno che ha animato la vita e il pensiero di Chiara essendo a servizio della Chiesa e dell'umanità. I focolari, cui molti aderenti sono riuniti nella Basilica di Sant'Ambrogio, salutano così il cardinale Scola che presiede la celebrazione eucaristica per il movimento a sette anni dalla scomparsa della fondatrice Chiara Lubic della quale il 27 gennaio si è avviata la causa di beatificazione. Il pensiero del cardinale è per l'irragionevolezza dell'ansia per il domani, pur umanamente comprensibile, e per la ragionevolezza della fede. Nella memoria della carissima sorella Chiara, dice, dobbiamo chiederci cosa cerchiamo nelle preoccupazioni che occupano il nostro cuore e la mente. Con le recenti parole di Papa Francesco, ci ha detto che adorare il Signore vuol dire dargli il posto che devi avere, la risposta dell'arcivesco a questo interrogativo si fa consegna per il presente e il cammino futuro del movimento. Nulla anteporre al Signore. Un primato che non possiamo dare per scontato e che è dinamismo di libertà. Tutto ciò, insomma, che Chiara Lubic esprimeva con l'espressione Gesù in mezzo. La misura dell'amore è il suo essere senza misura. E di questo radicalismo dell'amore voi siete testimoni, vivendo e servendo il carisma che lo spirito ha donato a Chiara, aggiunge Scola rivolgendosi direttamente ai focolarini. La radice profonda è che tutti siamo uno, come diceva spesso Lubic, con le parole che ritornano nella preghiera di intercessione per la sperata, la definisce così l'arcivescovo, beatificazione della fondatrice. Non a caso tutte le iniziative per ricordarla, quest'anno, dedicate al tema l'unità e la politica, hanno portato gli aderenti al movimento nei parlamenti e nelle sedi istituzionali di oltre 30 nazioni del mondo. E noi sappiamo bene come ci sia bisogno di questa unità. Oggi, nella nostra persona anzitutto, siamo molto divisi, e nella Chiesa e nella stessa società civile. La serata di Telenova prosegue con il calcio, con Nova Stadio Sprint, Luciano Rindone e i suoi ospiti per approfondire quanto accaduto ieri in Europa League e per puntare già i fari su quello che sarà il weekend di campionato. Poi la politica alle 20.30 con Linea Dombra e Adriana Santa Croce. Per quanto mi riguarda, davvero buona serata a tutti sugli schermi di Telenova. Per quanto mi riguarda, davvero buona serata a tutti.